Eccomi con parte del casse di Forza Avenida Gente, questo musical storico 1981, quindi quando c'era il grande Silvio Spacesi, due dei interpreti storici di questo grande musical, Michele Paolicelli e Roberto Bartoletti. Grazie a voi. Allora, parliamo di Forza Avenida gente, insomma, si commenta da solo. Allora, chiariamo subito una cosa. Io sono San Francesco e lui è il lupo, il lupo di Gubbio, il famoso. Bene. E quindi rappresentanza proprio dell'essenza. L'essenza proprio. Di ciò che Giotto raccontò nei quadri che lui fece. Che dobbiamo dire? Dopo 30 anni è ancora sulla breccia questo spettacolo. No, sono più... 30... 81, 38? 38 anni, sì. Insomma, è longevo. No, no, però insomma... Sì, però penso che continua. Continua a piacere. Soprattutto le musiche sono sempre molto belle, devo dire. E il resto no? No. Ho detto le musiche sono molto belle, ma anche il resto. Poi è un insieme, no? Voglio dire. Certo. Abbiamo superato i 3.500 repli, ormai non teniamo più conto. Si perde il conto. Allora, con voi ci sarà anche Roberto D'Alessandro, dico bene? Roberto D'Alessandro, sì, che è il nuovo Bernardone, nuovo per modo di dire, perché c'ha già... Anche vista la sua imponenza, no? Sì, un po' di un paio di 200 repli, più o meno. Eh sì, sì. Quindi pure lui sta invecchiando con forza di... E tra l'altro mi ricordo che la prima regia era di Castellacci? Castellacci e Ventura. Allora, 4-7 luglio, ovvero dal 4 al 6, la sera alle 21.30... Sì, no, stavo specificando, dal 4 alle 6 fino alle 21.30 e il 7 luglio alle 17.30, palco interno. Allora, Michele Paolicelli, Roberto Bartoletti... Forza, venite, gente! Venite? 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 La domanda è venite? C'è anche l'aria condizionata, quindi siamo bene, è importante. Venite? Vi sortiamo, vi sortiamo? Sì, sì. Dai! Grazie, grazie a voi!